www.redigio.it e la storia continua Per chi suona la campana, è un mestiere di famiglia L'arte fusoria era tramandata di padre in figlio Le iscrizioni presenti sugli oggetti, conservatisi fino ad oggi permettono di ricostruire la genealogia di intere famiglie di affermati campanari fiorentini pisani, bolognesi, piacentini, aretini, veneziani e senesi In particolare, per quanto riguarda l'Italia centrale seguire gli spostamenti di queste maestranze necessariamente itineranti, al servizio di committenze ecclesiastiche civiche e signorili significa in molti casi ricalcare i percorsi della geografia politica insieme con l'artistica dell'Italia comunale tra incessanti scontri, alleanze e rivolgimenti si pensi, per citare solo alcuni fonditori fiorentini ai fratelli Bona Guida e Rico che a fine 200 sono chiamati a realizzare numerose campane in Lucchesia oppure a Guiciardo da Petroniano al lavoro per concepire due campane per la chiesa di Sant'Agostino a massa marittima nel 1310 anno in cui la città è sotto controllo fiorentino due famiglie, in particolare contano tra le proprie fila numerosi maestri campanari la prima, ancora fiorentina è quella che vede come capo stipide Puccio attivo nei primi decenni del 300 padre dei campanari Tadeo, Francesco, Bartolomeo e Filippo negli stessi anni Ricciardo di Tingo ricordato nelle croniche senesi del tempo che nel quarto decennio del secolo aveva una bottega ben avviata e fu protagonista di un numero ingente di commissioni anche insieme al figlio Agostino e al fratello Francesco altra notissima bottega è quella dei Pisani primo fra tutti Bartolomeo seguito dai figli Loteringio, Andreotto e Guidotto e dai nipoti la loro fama raggiunse Assisi, Roma e persino la Sicilia dove i fonditori si aggiudicano in carichi di rilievo tra cui quello per la realizzazione di una campana destinata al Duomo di Cefalù non di rado colui che si occupava della manutenzione dell'orologio pubblico era anche un fonditore e in generale competente in materia di metalli la versatilità dei maestri fonditori si rivela anche nella varietà di oggetti che erano chiamati a realizzarli come nel caso di Ruggero delle Campane all'inizio del XII secolo questo maestro incise sulla valva destra della bella polpa bronza del mausoleo di Boemondo a Canosa una scritta che suona presso a poco come un messaggio promozionale l'escrizione, benevidente nello spazio ricavato intorno a una formella in treci ci informa infatti che egli oltre alle campane realizzava anche porte e candelari l'iconografia ci trasmette invece una testimonianza unica proveniente dalla cattedrale di Reggio Emilia si tratta della figura di Milio Campanarius ritratto nell'atto di verificare il funzionamento di una campana novelle suona e ti sarà dato una raccorta di novelle la 100 novelle antiche e il novellino compilata da un anonimo fiorentino al tramonto del 200 riferisce a un divertente episodio indicativo di un uso particolare delle campane la richiesta di giustizia di fronte a un torto al tempo di re Giovanni d'Acri fu ordinata una campana che chiunque riceveva un gran torto si la andava a suonare il re ragionava savi a ciò ordinati a ciò che a ragione fosse fatta avvenne che la campana era molto tempo durata che la fune per la piova la pioggia era venuta meno sicché una vita alba una vite alba un arbusto rampicante vi si era legata ora avvenne che uno cavaliere d'Acri aveva uno suo nobile destriere lo quale era invecchiato sì che la sua bontà era tutta venuto meno sì che per non dargli da mangiare il lasciava andare per la terra lo cavallo per la fame aggiunse con la bocca a quella vita alba per rodegarla cioè rosichiarla tirando la campana sonò i giudici si adunarono e videro la petizione del cavallo che parea che non mandasse ragione giudicaro che il cavallo che il cavaliere cui egli aveva servito da giovane il pacesse da vecchio il re li costrinse e comandò sotto gran pena www.redigio.it e la storia continua www.redigio.it Grazie a tutti.